Ehi ehi bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale qua è Savis che vi parla dove vi andrò a spiegare come rimuovere la neve e tre motivi per farlo raga Il primo motivo semplicemente per chi combatte col cecchino sulla lunga distanza la neve diventa veramente un difetto si crea quella sposchia e a me personalmente darebbe fastidio Secondo motivo raga con la nuova funzione che hanno aggiunto per driftare volete driftare e provarlo già bene da subito la neve crea problemi Terzo motivo se non vi piace la neve dovete fare così per toglierla start online avvia attività ragazzi create da rockstar e andiamo su gare A questo punto andiamo a cercare le gare di caio perico che hanno aggiunto recentemente con qualche dlc fa ragazzi Queste gare non sono ancora scriptate con la neve quindi prenderemo la lobby praticamente da quelle attività Semplicemente andiamo ad avviare qualsiasi gara di caio perico non ha differenza quale avviate e una volta che andate nell'attività di caio dovrete fare semplicemente un piccolo step che adesso vi sto a spiegare Potrete farlo in solo raga ma c'è sempre l'appoggio di qualcun altro quindi guardate bene una volta che siete spawnati nell'attività Non dovrete fare niente di speciale semplicemente andate a prendere il primo checkpoint e una volta che avete preso il primo checkpoint il gioco capisce che siete praticamente là dentro A questo punto fate start e andate su amici e raga dovrete semplicemente unirvi a una sessione di un vostro amico quindi se volete andare in una pubblica a combattere fate entrare prima lui in quella lobby così poi vi potete unire raga O semplicemente se volete giocare senza la neve vi unite a qualcuno che è online io in questo caso userò Anawak tanto per farvi vedere come funziona il glitch Lui è in mira differente ragazzi quindi mi darà il messaggio e cambierò mira ma il glitch funziona lo stesso a noi interessa che la neve non ci sia al nostro respawn E quindi ragazzi come ben vedete indovinate un po' sbada bam in un minuto abbiamo tolto la neve glitch facilissimo utile per chi vuole combattere in una maniera tranquilla o chi si vuole divertire con le auto senza la neve Vi voglio ricordare raga che se cambiate lobby tornerà tutto nella normalità quindi spawnerete in una lobby con la neve Io raga vi auguro i miei migliori auguri passate delle buone feste e niente al prossimo video bella raga